Leonardo Silva Revisore Sono qui per raccontarvi la storia di questa maglietta, una maglietta abbastanza, diciamo, innocente alla vista. Ecco, quindi la storia di una t-shirt. Potrebbe essere anche la storia di un capo d'abbigliamento qualsiasi che noi compriamo, casualmente, quasi ogni giorno. Ma noi abbiamo nel nostro portafoglio uno strumento molto, molto potente che sono i nostri soldi. E quindi qui vi dimostrerò come scegliere, come spendere i nostri soldi può veramente creare il mondo che noi desideriamo. Quindi parliamo di questa t-shirt. L'ho presa rossa, chiaramente, in onore di TED Talk. Questa maglietta è la prima cosa che dobbiamo chiederci di che cosa è fatta. È fatta di cotone. Quindi cotone, pensiamo, compriamo una materia naturale, una cosa bella che traspira, soffice. E quindi stiamo già facendo una scelta giusta per noi e forse per l'ambiente. Ma ci dobbiamo chiedere intanto da dove viene questo cotone. Il cotone viene cresciuto nel sud del mondo. Particolarmente si può dire nel sud-est asiatico, in India, in Sud America e in Africa. E cosa succede in questi posti? Le persone che coltivano e che si curano delle piante di cotone sono spesso poco protette, come vediamo questi poverini che si stanno dando il pesticida uno contro l'altro. Non sono per niente equipaggiati, diciamo, per poter fare questo lavoro. Quindi non solo danno un sacco di pesticidi a queste piante. Immaginatevi che il 25% di tutti i pesticidi utilizzati in agricoltura in un anno viene utilizzato per la coltivazione del cotone. Quindi tantissimo. Ma non solo. Questi pesticidi, oltre a fare malissimo le persone che coltivano il cotone, rimangono nelle fibre del cotone. E quindi questa maglietta, credeteci o no, è ancora piena di questi pesticidi. E poi, come è stato illustrato molto eloquentemente prima di me, questi pesticidi uccidono le api. E questo sappiamo che è una cosa devastante. E vi dirò di più. Ho letto non più di due settimane fa, sul Venerdì di Repubblica, che esiste un problema ancora più grosso legato sempre alle api. In India, ad esempio, viene venduto questo cotone transgenico, il cotone BT, dalla Monsanto. E questo cotone ha un piccolo dettaglio che deve essere impollinato a mano. Quindi cosa succede? Vengono prese e vendute da famiglie poverissime, ad esempio nelle Luttar Pradesh, delle bambine che hanno tra i 9 e gli 11 anni. Vengono chiaramente tolte dalla famiglia, tolte dalla scuola e portate, tenute in uno stato di semischiavitù, per fare questo lavoro allucinante che è impollinare le piante a mano. Devono svegliarsi prestissimo la mattina, perché il fiore maschio si dischiude prima delle 5 e mezza di mattina. Quindi questa questione delle api porta anche alla schiavitù. E poi questa bella maglietta rossa chiaramente è stata tinta. Guardate che fine fa questa tintura. Finisce nei corsi d'acqua. Finisce quando non ci sono i filtri adeguati, cosa che accade purtroppo tantissimo in questi posti dove vengono fatte le nostre magliette. non ci sono i filtri, le acque reflue di queste aziende non vengono pulite, finiscono nei corsi d'acqua e poi finiscono in mare. Questo cosa vuol dire? Che tutta la vita ittica, tutti gli animali, tutte le piante dei fiumi e del mare vengono inquinati. Ma non solo vengono inquinati, ci sono delle normative, europee e anche americane, che richiedono specificatamente che i capi di abbigliamento che vengono venduti nei nostri negozi siano fatti con dei coloranti privi di metalli pesanti, quindi azofree. Greenpeace, che non si fida tanto, ha mandato i propri volontari, senza dire che erano di Greenpeace, ad acquistare dei capi di abbigliamento dai soliti sospetti, quindi H&M, Zara, Benetton, ma anche un pochino più in alto. Sono andati dagli stilisti, sono andati da Dolce Gabbana, da altri. Hanno preso i capi, li hanno acquistati e poi li hanno portati in laboratorio, li hanno fatti analizzare e hanno scoperto che questi capi di abbigliamento, tutti, non ce n'era uno a regola, erano pieni di questi metalli pesanti. E quindi hanno lanciato questo allarme, hanno lanciato la detox campaign, dicendo non solo questi coloranti orribili inquinano l'acqua, fanno male a chi proprio tinge i capi, ma anche alle persone normali che si mettono queste magliette, danno allergia alla pelle e poi anche tante altre cose che si stanno studiando, ma hanno un effetto devastante anche sul nostro DNA. E poi chi fa queste magliette? Quindi le maestranze testili che cuciono la maglietta, quando noi siamo tutti contenti perché questa maglietta ci è solo costata, qui dice 14 dollari o 14 euro, abbiamo fatto un affarone. La persona che ha cucito questa maglietta ha solo guadagnato 12 centesimi. 12 centesimi non ti fa arrivare molto lontano nella sopravvivenza. E qui parlo di un'altra cosa, parlo di quello che è il living wage, quindi la paga di sopravvivenza, tra virgolette. La paga di sopravvivenza cosa vuol dire? Per avere una vita decente una persona deve poter comprare da mangiare, deve poter pagare l'affitto, deve poter avere cure mediche, deve dare educazione ai propri figli, deve comprarsi da vestire, deve poter avere trasporto per andare a lavorare, per andare in giro, e magari riuscire a mettere anche qualche soldino da parte. e si dice che una living wage è un diritto umano di ogni essere umano. Ma cosa succede nel mondo? Non è esattamente così. Guardate cosa succede, ad esempio prendiamo il Bangladesh. La living wage mensile sarebbe di 259 euro per riuscire a pagare in maniera decente tutte queste cose. cosa percepisce un lavoratore tessile? 28 euro e 60 centesimi. C'è una sproporzione mostruosa. Se guardate gli altri dati, diciamo che il Bangladesh è quello più eclatante, ma certo che in Cambogia non va molto meglio, in Sri Lanka nemmeno, in India, e anche la Cina di cui parliamo tanto male, insomma, è un pochino più in alto. Però non c'è retribuzione equa per il lavoro. E quindi le persone sono affamate, non riescono a vivere in maniera decente. E poi vogliamo parlare un attimo di sicurezza? Avrete sentito tutti parlare di questa tragedia che è accaduta nel 2013, esattamente il 24 aprile. Infatti ogni anno adesso c'è Fashion Revolution Day, il 24 aprile, dove tutti siamo invitati a metterci gli abiti con l'etichetta all'esterno, per dire chi ha fatto i nostri vestiti. Cos'è accaduto qui? Questo era ad Acca, era una palazzina faticente, dove gli operai erano chiusi dentro a chiave. Cosa vuol dire? C'erano le inferiate sulle finestre e poi le porte, il gate, era chiuso con una catena e il lucchetto. Perché la guardia ogni tanto va a mangiare, va a prendersi il caffè e chiude dentro i lavoratori. Sono state confermate queste cose da filmati della BBC e anche della nostra, mi pare, la Gabbanelli. Comunque è vero, questa palazzina in particolare aveva già delle crepe, era già stato detto che non era sicurissima, è crollata e si è portata con sé 1121 persone che facevano i nostri abiti a poco prezzo. Quindi questa maglietta possiamo dire che è fatta 60% di cotone, 20% di sudore e 20% di sangue. Questo cosa porta? Porta chiaramente a persone molto molto arrabbiate e quindi non abbiamo bisogno di altro social arrest, quindi di dimostrazioni di persone che dicono basta, non se ne può più, noi non ce la facciamo più andare avanti così. e sta succedendo proprio in tutto il mondo. E poi c'è appunto lo sfruttamento dei bambini. Noi sappiamo che in tanti di questi paesi le famiglie hanno bisogno che i bambini lavorino, però se gli adulti non sono tutelati, immaginatevi i bambini. Infatti in Bolivia ultimamente hanno fatto un sindacato per aiutare a tutelare i diritti dei bambini lavoratori. E poi cosa succede? Che ne compriamo talmente tante di queste cosine a poco prezzo che poi sono fatte un po' così così, poi ci annoiamo dopo poco tempo che le abbiamo messe e quindi le buttiamo e creiamo la spazzatura tessile che sta intasando le discariche di tutto il mondo. Allora, io non sono qua per fare l'uccellaccio del malaugurio e neanche per dirvi cose che probabilmente già avete sentito o di cui avete già letto, ma per dirvi che c'è un'alternativa e che voi avete, come dicevo prima, in tasca la chiave per questa alternativa. L'alternativa è il fair trade, quindi il mercato equo e sostenibile. Io ho avuto la grande fortuna una decina di anni fa, dopo aver passato una vita, una carriera, facendo la moda, quella tra virgolette, delle sfilate convenzionali, mi sono ritrovata a discutere la lunghezza di una gonna per due ore e mi sono detta non ce la posso più fare. Io devo fare qualcosa che corrisponda a quello in cui credo. Io devo fare qualcosa per cui il mio lavoro possa dare un contributo a migliorare questo pianeta, a migliorare le condizioni delle persone e anche l'ambiente. Ed ecco che ho incontrato il fair trade. Che cos'è il fair trade? È un'associazione mondiale, il WFTO, che ha una serie di regole. Ve ne cito alcune. Trasparenza e affidabilità. Pagamento di un prezzo equo. Quindi quello che dicevamo, il living wage. Assenza completa di lavoro minorile. Rispetto dell'ambiente. Quindi sono delle regole che ci sembrano tanto scontate, ma che in realtà scontate non sono. Perché come abbiamo visto in questi paesi lo sfruttamento e le condizioni orribili della vita di questi lavoratori sono all'ordine del giorno. Quindi il fair trade cosa fa? Certifica alcune situazioni lavorative che garantiscono questi diritti ai lavoratori e garantiscono anche che, ad esempio, le acque siano filtrate prima di essere fatte uscire nell'ambiente. Ecco, qui sono io con alcune delle mie artigiane. Qui sono in Ecuador, in un posto quasi a 4.000 metri, che si chiama Salinas. Ed è un esempio di economia sociale di grandissimo successo. È un piccolo paese dove un padre salesiano di Venezia è andato 40 anni fa, lì è rimasto, e ha creato un'economia equa e sostenibile dove queste donne, ad esempio, fanno la maglieria per me, per me, in realtà, come direttore creativo della linea moda Autor du monde, che vuol dire gli autori del mondo, che sono appunto i nostri artigiani, che è prodotta da altro mercato. Noi lavoriamo con tutte queste realtà dove appunto è pagato il prezzo equo, le persone vengono date un'assicurazione medica, vengono curate, lavorano in dei posti di lavoro che sono sani. E questi sono alcuni dei capi che faccio. Questo è un cardigan di cotone fatto da una cooperativa che è a Kathmandu, in Nepal. Si chiama KTS, Kumbeshwar Technical School. E io li amo particolarmente perché sono un esempio di imprenditoria sociale. Cosa vuol dire? Loro fanno imprenditoria, però riversano parte dei loro profitti nella comunità e quindi loro hanno un sistema educativo che offrono ai giovani bambini, ai bambini dai 3 agli 11 anni, quindi bambini di strada, che non avrebbero la possibilità di studiare ma che attraverso questa iniziativa di Kumbeshwar vanno a scuola. Quindi secondo me in questa cosa dell'imprenditoria sociale c'è forse la formula per salvare questo pazzo mondo che sta andando un po' a quel paese. Cioè fare imprenditoria, pagare il giusto, occuparsi dei propri lavoratori, ma riversare parte dei profitti nella comunità, rendendo la comunità un posto migliore per tutti. E poi si può scegliere il cotone biologico. Il cotone biologico è un cotone che non ha bisogno di pesticidi, che usa la lotta integrata. Ad esempio io sono stata a visitare un luogo meraviglioso in Egitto, che si chiama Sekem, dove viene utilizzata l'agricoltura biodinamica che, ad esempio, per la lotta ai pesticidi, utilizzano dei coni di carta gialli all'interno dei quali viene spalmata questa resina molto appiccicosa e molto profumata. E quindi gli insetti volano dentro questi coni, attratti un po' dal colore e un po' dal profumo, e lì, ahimè, rimangono. Però, in questo modo, la terra rimane fertile, si possono ruotare le coltivazioni, non inaridiscono la terra e il cotone è un cotone biologico, anzi, biodinamico in questo caso, che non ha tutte quelle caratteristiche orribili che abbiamo visto prima. E poi possiamo tingere il cotone o le fibre, in generale, con le piante. Gli arazzi che noi vediamo nei nostri musei, in queste ville meravigliose che ci sono sul lago di Como, sono stati, i fili per fare questi arazzi, sono stati tinti centinaia di anni fa, eppure sono ancora vibranti e bellissimi. E quindi c'è ancora la possibilità di farlo. Questo è un signore con cui io lavoro in Etiopia, in una cooperativa che si chiama Sabahar, dove tingono tutto con le piante, con i colori naturali. E se non ci sono i colori naturali, ci sono i colori azofri, quindi sono colori chimici, che però non hanno questi metalli pesanti, quindi non inquinano i corsi d'acqua e non fanno male a chi tinge i capi e a chi poi li indossa. Questi, di nuovo, sono alcuni capi che ho disegnato per la primavera-estate 2014. Quindi la mia sfida è quella di fare una moda che sia bella, che sia interessante, che uno abbia voglia di mettersi, ma che allo stesso tempo sia giusta, sia equa e sia solidale. Questi sono due capi fatti in India. E poi questo mi ha dato la fortuna e il privilegio di farmi un nome in questo campo. Quindi io sono un punto di riferimento per tutto quello che sono le produzioni etiche e sostenibili in Italia e nel mondo. E quindi ci sono dei marchi importanti, come Moschino, ad esempio, che sono venuti da me per alzare il loro livello di CSR, quindi Corporate Social Responsibility, responsabilità sociale d'azienda, e abbiamo fatto una bellissima produzione di capi in uncinetto in Kenya, con queste suore che si chiamano le Crochet Sisters. Poi anche Pinco è venuto da me per fare una serie di borse molto belle e gli ho proposto di farle in Etiopia. Ho preso ispirazioni da una popolazione che viene, un paio di popolazioni della Valle dell'Omo, che fanno body painting. E da lì ho preso l'idea per fare queste grafiche e le borse sono state prodotte ad Addis Abeba, in una piccola fabbrica. alla fine sono state prodotte 45.000 borse, quindi un impatto meraviglioso su tutta quella zona, di lavoro per tutti. Io so che in questa sala, essendo a Combo, ci sono anche tanti industriali illustri, ne ho conosciuti alcuni ieri sera, e se non fosse per altro, per non essere buonisti, per non voler fare quelli che salvano il mondo, c'è una popolazione in crescita, che sono i millennials. I millennials sono i ragazzi nati tra gli anni 80 e i 2000. Saranno il 46% della forza lavorativa dell'America in dieci anni. Chi sono e cosa vogliono i millennials? I millennials vogliono qualità di vita e premiano le aziende che hanno un alto profilo di responsabilità sociale. Quindi vita verso lavoro, vogliono qualità di vita, premiano le aziende, si informano, sono sempre su internet e sanno chi fa cosa. E quindi, e questo è il messaggio principale del mio intervento, ogni volta che noi spendiamo i nostri soldi, facciamo un voto per il tipo di mondo che vogliamo, quindi noi abbiamo in tasca la soluzione e dobbiamo essere consapevoli in ogni nostro acquisto. E poi, come dice la felpa che ho indosso, che ho fatto per un progetto di Oxfam, poi venduta da COIN, «It always seems impossible until it's done» è una frase di Nelson Mandela che dice «Sembra sempre impossibile finché non è fatto». Grazie. Grazie.